Voi non avete capito, o per meglio dire, non volete capire che cosa significa Corleone. Voi state giudicando degli onesti galantuomini che i carabinieri e la polizia hanno denunciato per capriccio. Noi vi vogliamo avvertire che se un solo galantuomo di Corleone sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutte, sarete scannati come pure i vostri familiari. Adesso non vi resta che essere giudiziosi, 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 essere giudiziosi. Come on, go, believe me, I'll make you save And I am the true way to express it Touch me, feel me, and you will find We are nothing Sarete visto, sarete scanate con